L'Università per stranieri Dante Alighieri ha sede a Reggio Calabria, in Calabria, nel cuore del Mediterraneo, ed è l'unica università per stranieri del sud Italia. È una università legalmente riconosciuta dallo Stato già dal 2007. All'Università sono attivati corsi di lingua e cultura italiana nei livelli previsti dal quadro comune di riferimento europeo. Oltre a delle attività di grammatica, di approfondimento della lingua orale o approfondimento della lingua scritta, ci sono varie discipline curriculari, quali ad esempio la lingua attraverso gli audiovisivi, oppure i laboratori di linguaggio enogastronomico, laboratori di giochi linguistici ed altri ancora. Il corso di eccellenza all'Università per stranieri è il corso di formazione e docenti di lingua italiana come lingua straniera, un corso che è giunto alla sua 31esima edizione e che viene frequentato ogni anno per sei mesi da tantissimi studenti provenienti da ogni parte del mondo che intendono apprendere le più moderne tecniche dell'insegnamento della lingua italiana per poi insegnare la nostra lingua nei loro paesi. L'Università, grazie al CESAS, che è il Centro Assistenza a Studenti Stranieri, organizza anche delle attività extracurriculari, tra queste dei viaggi negli intorni, nei luoghi di maggiore interesse artistico della provincia di Reggio Calabria e delle visite guidate ai musei più importanti della città. L'Università per stranieri offre la possibilità agli studenti stranieri che abbiano superato il livello B2 di frequentare gratuitamente i corsi di laurea attivati all'interno dell'Ateneo. Reggio Calabria è anche sede di un rinomato Conservatorio di Musica e di una prestigiosa Accademia di Belle Arti. È anche sede dell'Università Statale Mediterranea, in cui sono attivati i corsi di laurea in Ingegneria, in Scienze Economiche, in Agraria, in Architettura e in Giurisprudenza. Tutti gli studenti stranieri che frequentano i tre Atenei apprendono la lingua italiana o la approfondiscono nel nostro Ateneo all'Università per stranieri di Reggio Calabria. Ateneo all'Università di Reggio Calabria. L'Università per stranieri d'antiaglieri di Reggio Calabria organizza corsi ordinari di lingua e cultura italiana per tutti i livelli del quadro comune di riferimento europeo. Possono iscriversi tutti i cittadini stranieri che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Le lezioni sono organizzate in classi di massimo 15 studenti. Ciò favorisce un rapporto diretto fra docenti e studenti. Tutti i corsi si concludono con un esame che può attribuire crediti formativi europei. L'Università organizza anche un corso di diploma di alta formazione di docenti di lingua italiana come lingua straniera. Gli studenti stranieri che abbiano raggiunto almeno il livello B2 di conoscenza della lingua italiana possono frequentare gratuitamente i corsi di laurea dell'Università. All'interno dell'Università opera il CESAS che è il centro che assiste agli studenti stranieri durante il loro soggiorno a Reggio Calabria. Tra i servizi offerti, il libro di testo gratuito, un viaggio di istruzione mensile gratuito e l'assistenza sanitaria di base. Il CESAS mette a disposizione delle borse di studio per studenti meritevoli o con basso reddito. Io vi auguro di poter avere la massima fruizione, il massimo codimento dell'opportunità che vi viene data in questa sede, soprattutto fruire e utilizzare l'insegnamento della lingua italiana da parte dei nostri valolosi, delle nostre valolose docenti. Non mi resta che augurarvi un ottimo soggiorno e che possiate trarre il massimo frutto da questa vostra permanenza, nel nostro territorio e nella nostra città. Augurio! Sono stato al museo e è stato fantastico. Ho fatto delle foto e mi è piaciuto davvero. Per esempio, quando finalmente ho visto o ho avuto l'opportunità di vedere questi bronzi di Riace, sinceramente non so se ci sono parole per spiegarmi, come mi sono sentito in quell'attimo. Mi è piaciuto tutto. Tropea è stato qualcosa che io non immaginavo che fosse così bella. È come il Caraibi. Facciamo più lezioni, più che altro. C'è una bella sfida, insomma. Poi in altre lezioni parliamo piuttosto di cose attuali. Il corso mi è piaciuto moltissimo, davvero. Io generalmente aspetto il weekend per avere tempo libero, ma qui mi piace molto la settimana, stare in università, le classi mi parlano, mi piacciono moltissimo. Sto imparando tantissimo l'italiano, la cultura. Ho imparato abbastanza, ho migliorato l'italiano. Conoscere tanta gente che è così diversa di me, dal punto che io sono brasiliana, c'è uno di Australia, uno di Argentina. Ci sono dei brasiliani, degli australiani, degli americani, cioè c'è gente di tutto il mondo, e anche nella classe ci sono tanti russi, bielorussi, ucraini. È così diverso, è meraviglioso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.